che ne pensi di Giuseppe Conte visto che sta diciamo cercando di posizionare come il nuovo PD possiamo dire si sta cercando di essere lui la speranza l'Obama italiano però di Obama italiani ce ne sono stati anche altri non ce ne sono stati altri scusami qualcuno ha tentato di spacciarsi come l'Obama italiano e abbiamo visto che fine ha fatto non lo so io lo guardo con molto circospetto diciamo così grazie